Dopo la bufera dei giorni scorsi, torna il sereno, in questo caso sui campi d'allenamento per l'Arezzo. L'amministrazione comunale ha infatti individuato un'area dove poter realizzare campi di allenamento e relativi impianti per l'Arezzo. Si tratta di Sant'Andrea Pigli. Siccome c'è la possibilità di una superficie del comune che è comunque destinata ad impianti sportivi, che fitta perfettamente le richieste della società per l'allenamento della prima squadra e quindi due campi da calcio di misura regolamentare, che ha nelle vicinanze servizi per quello che riguarda anche parcheggi e dei facili accesso, ci è sembrato opportuno lavorarci sopra per dare una soluzione che non si spenga nell'arco di una stagione. Quest'anno c'è da valutare se il Tribunale fallimentare ci restituirà, come speriamo in tempi brevissimi, la struttura che era in gestione a una società fallita. Per quanto riguarda il resto, invece, con questa operazione, come dice il Sindaco, guardiamo lontano nel tempo, cioè dotiamo lo stadio della città di Arezzo di tutti quegli elementi per avere il campo da calcio, per avere gli annessi per gli spogliatoi, per avere tutto ciò che serve per essere uno stadio con più lo spazio per gli allenamenti della prima squadra. Quindi è lo stadio città di Arezzo che oggi si allarga e diventa uno stadio che dà tutte le opportunità alla prima squadra. Una soluzione, sottolinea l'amministrazione, che non cancella comunque l'ipotesi e le caselle, visto che il Comune attende ancora la restituzione dell'impianto insieme a quello di Pratantico.